vangelo secondo luca capitolo 7 vangelo secondo luca capitolo 7 leggiamo dal versetto 1 al versetto 10 vangelo secondo luca capitolo 7 diciamo i primi 10 versetti dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava entrò in capernaum un centurione aveva un servo molto stimato che era infermo e stava per morire avendo udito parlare di gesù chi mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo essi presentatisi a gesù lo pregavano con insistenza dicendo egli merita che tu gli conceda questo perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga gesù si incamminò con loro ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli signore non darti questo incomodo perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te ma di una parola e il mio servo sarà guarito perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati e dico a uno vai ed egli va a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa udito questo gesù restò meravigliato di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse io vi dico che neppure in israele ho trovato una così gran fede e quando gli inviati furono tornati a casa trovarono il servo guarito brano che descrive la fede di quest'uomo il centurione la fede che gesù descrive in questo modo una così gran fede una così gran fede che non si trova neppure nel popolo di israele messaggio forte messaggio che evidenzia la natura della fede di quest'uomo di questo che parleremo questa mattina luca scrive questo vangelo come sapete con un intento specifico e descrivere in modo storico l'opera di gesù il suo insegnamento il suo ministero la sua venuta e l'obiettivo è incoraggiare teofilo versetto 4 del capitolo 1 perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate stiamo studiando questo libro questo vangelo che ha l'intento di incoraggiare teofilo riguarda ciò che aveva udito istruito riguardo a cristo e questo libro all'intento di incoraggiarlo riguardo proprio a cristo al suo ministero a alla sua identità e alla fede in cristo dei credenti dei discepoli ci troviamo in questo contesto dal capitolo 4 versetto 14 fino al capitolo 9 versetto 50 luca parla del ministero di gesù in galilea tutta questa sezione descrive il suo ministero e parla specificamente del suo insegnamento costantemente evidenza che gesù insegnava questa era la sua primaria attività parla delle sue opere miracolose gesù che opera in modo soprannaturale evidenziando la sua potenza divina e poi luca parla anche dell'autorità di gesù sui demoni chi poteva fare ciò se non dio incarnato ma luca presenta anche un altro aspetto in questo vangelo in questo racconto storico ed è la grande ostilità da parte delle autorità religiose nei confronti di gesù dal capitolo 5 vediamo questa ostilità nei confronti di gesù capitolo 5 versetto 21 quando gesù perdona i peccati di questo paralitico come reagiscono gli scrivi farisei versetto 21 chi è costui che bestemmia chi può perdonare i peccati se non dio solo anziché chiedersi chi era gesù alla luce delle sue opere miracolose considerando quindi la sua autorità di perdonare i peccati lo hanno giudicato come un bestemmiatore sempre al capitolo 5 dal versetto 27 al 32 gesù che chiama levi a seguirlo come suo apostolo levi prepara questo gran banchetto e i faresei gli scrivi criticano questo gran banchetto dicendo perché mangiate e bevete con i pubblicani e peccatori ancora una volta giudicano gesù e i suoi discepoli a motivo di questo banchetto perché c'erano pubblicani e persone che erano peccatori come loro sempre capitolo 5 dal 33 al 39 anche qui riguardo al digiuno versetto 33 i discepoli di giovanni digiunano spesso e pregano così pure i discepoli dei farisei i tuoi invece mangiano e bevono ovvero sono carnali non devoti a dio capitolo 6 i primi 5 versetti per quanto concede il sabato le regole che loro avevano aggiunto riguardo a questa legge che riguardava il sabato e giudicano i discepoli perché strappavano delle spighe e sfregandole con le mani mangiavano il grano i farisei dissero perché fate ciò che non è lecita di sabato e poi dal versetto 6 al versetto 11 anche qui la stessa identica cosa gli scrivi fra se lo osservavano per vedere se avrebbe fatto una guarigione di sabato per trovare di che accusarlo questo era il loro obiettivo non era considerare chi era gesù ma era trovare il modo per accusarlo questo caratterizza i non credenti anche al presente mancanza di volontà di considerare chi è gesù storicamente di leggere la parola di considerare racconti storici che raccontano spiegano quella che è stata la sua opera il non credente è pronto a rinegare a rigettare gesù a priori senza alcuna considerazione dal punto di vista anche razionale considerando il libro storico gesù chiama i dodici apostoli come abbiamo visto qualche settimana fa i dodici apostoli per seguirlo per istruirli e poi predica questo sermone il sermone sul monte dal versetto 20 del capitolo 6 fino alla fine in questo sermone gesù ha rivelato quella che la giustizia di dio per contrastare la giustizia dei farisei l'intento era mostrare che la giustizia dei farisei di questi uomini non era sufficiente per entrare nel regno dei cieli e poi evidenziare qual è l'essenza del discepolato chi è il discepolo che entrerà nel regno di dio gesù ha dovuto fare ciò di fronte infatti questo popolo religioso che credeva in yahweh in dio ma seguiva questo falso insegnamento degli scrivi dei farisei e pensava di essere giusto a motivo del fatto che erano figli d'abramo e in questo contesto che gesù predica questo sermone doveva istruire i discepoli i dodici apostoli gli undici perché giuda sappiamo giude scariota tradì gesù perché sarebbero diventati fondamento della chiesa avrebbero predicato avvangelo è importante per loro questa chiarezza di gesù per proclamare con chiarezza questa chiarezza importante per predicare il vangelo gesù ha mostrato alla fine di questo sermone modo molto forte che non basta la professione ma essenziale fare la volontà di dio mettere in pratica le parole di gesù l'uomo manifesta quello che c'è nel cuore grazie alle sue azioni le sue parole gesù vuole mostrare quella che l'essenza della fede servifica la vera fede e l'intero nuovo testamento enfatizza ciò non ho letto un brano nelle scorse domeniche ma giacomo il fratello di gesù scrive specificamente riguardo proprio alla fede al capitolo 2 versetto 14 quando inizia in questo modo ascoltate ascoltate le sue parole a che serve fratelli miei se uno dice di avere fede ma non ha opere attenzione non sta insegnando che la salvezza è per opere la salvezza è per grazia per sola fede in cristo ma quella fede riposta in cristo una fede che si manifesta con delle opere versetto 26 termina così infatti come il corpo senza l'ospito è morto così anche la fede senza le opere è morta la scrittura parla di questa fede reale la fede che hanno coloro che entreranno nel regno dei cieli gesù vuole mostrare in che modo è possibile entrare nel regno dei cieli chi sono coloro che entreranno e come vivono coloro che entreranno nel regno dei cieli giovanni il battista è in modo molto forte quando battezza le persone che vengono da lui per essere battezzate in luca 3 luca 3 versetto 7 giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui razza di ripere chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura cosa motivava giovanni a parlare in questo modo fate dunque dei frutti degni del ravvedimento non c'era coerenza chiedevano di essere battezzati ma non erano davvero ravveduti non si erano ravveduti non c'era pentimento e non cominciate a dire in voi stessi noi abbiamo abramo per padre questo era quello che caratterizzava il popolo i giudei gli scrivi farisei avevano abramo per padre e di conseguenza pensavano che potevano entrare nel regno dei cieli giovanni dice dio può da queste pietre far soggere dei figli ad abramo e aggiunge ormai la scuore e posta la radice degli alberi ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco sapete gesù parlerà in questo stesso modo in questo brano che ho letto in luca capitolo 7 e attraverso anche brano di matteo capitolo 8 brano parallelo gesù parlerà di questa fede di questo centurione ma indirettamente giudica il popolo che ha una falsa fede e userà parole molto forti deve fare questo deve istruire questo popolo deve agire in questo modo affinché ci sia chiarezza riguardo alla vera fede qui abbiamo una illustrazione molto semplice della fede di colui che è in cristo fratelli cari abbiamo letto questo brano tante volte per chi è in cristo da molti anni e che possa questo brano questa mattina aprire i nostri occhi e incoraggiarci a capire in cosa consiste la fede dei credenti sempre in contrasto con la falsa fede degli israeliti perché gesù dice vi dico che neppure in israele in israele il popolo eletto di dio ho trovato una così gran fede questo è quello che gesù dice in questo brano che sia di incoraggiamento questa mattina per noi per aiutarci ancora una volta a comprendere in cosa consiste la fede servifica incoraggiarci a crescere in quella che è la nostra fede che abbiamo in cristo un brano che troviamo proprio subito dopo questo sermone sul monte sermone che evidenzia l'identità del vero discepolo e qui ora Luca riporta questo evento in cui si parla di questa grande fede del centurione di questo parleremo la grande fede del centurione la grande fede del centurione in contrasto con la falsa fede dei giudei prima cosa vedremo la richiesta del centurione la richiesta del centurione i primi cinque versetti poi parleremo dell'umiltà del centurione versetto 6 e 7 la prima parte del versetto 7 6 e 7 e poi la fiducia del centurione dal 7 la seconda parte del 7 al versetto 10 la richiesta l'umiltà e la fiducia del centurione iniziamo con la richiesta del centurione Gesù terminò i suoi discorsi si riferisce al sermone predicato sul monte davanti al popolo Gesù che termina questi discorsi dove c'era una grande folla presente un gran numero di persone in Matteo 7 il sermone sul monte Matteo termina in questo modo versetto 28 quando Gesù ebbe finito questi discorsi la folla si stupiva del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come loro scrivi la folla si stupiva Gesù termina questo sermone davanti al popolo che l'ascoltava e qui Luca ci dice che entrò in Capernaum in Capernaum come sappiamo Gesù lasciò Nazareth dove era cresciuto per poi spostarsi a Capernaum per vivere e abitare lì a Capernaum durante il suo ministero in Galilea Capernaum era la sua città Matteo 4 versetto 13 e in questa città Luca ci dice c'era un centurione un centurione un centurione è un soldato un non giudeo un gentile come capiamo al versetto 4 e 5 nel versetto 9 che era al comando di circa 100 soldati un soldato dell'impero romano un non giudeo probabilmente era a Capernaum al servizio di Erode Antipa viveva in questa città e qui Luca ci dice che aveva un servo uno schiavo letteralmente uno schiavo molto stimato da lui molto stimato che era inferno era malato e stava per morire era malato gravemente malato e stava per morire e Matteo 8 versetto 6 leggiamo che era paralitico e soffriva moltissimo questo è il modo in cui agisce il centurione versetto 3 avendo udito parlare di Gesù il quale aveva già operato per del tempo in Galilea e così anche a Capernaum specificamente gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo il suo schiavo questo è il modo in cui agisce quest'uomo centurione mostra grande amore affetto per il suo schiavo questo è notevole perché in quel contesto non c'era quest'amore per gli schiavi gli schiavi erano considerati degli utensili erano considerati come gli animali l'unica differenza è che l'essere umano lo schiavo parlava la differenza dell'animale ma questo centurione invece ha affetto e amore per il suo schiavo e la conoscenza di Gesù delle sue opere miracolose del suo insegnamento e invia gli anziani dei giudei gli anziani dei giudei ovvero le autorità della comunità giudaica locale di Capernaum invia questa autorità per chiedere a Gesù di andare da lui e di guarire il suo servo lo schiavo desidera la guarigione del proprio schiavo e chiede a Gesù di fare ciò era consapevole che Gesù aveva l'autorità e la potenza sulla vita di quest'uomo ha fiducia come vedremo nei prossimi versetti e invia gli anziani questo è molto particolare che lui un non giudeo invia dei giudei e questi giudei versetto 4 questa autorità presentatisi a Gesù lo pregavano con insistenza dicendo egli merita che tu li conceda questo loro intercedono per questo gentile non giudeo particolare i gentili disprezzavano i giudei i romani consideravano i giudei una razza sporca e i giudei disprezzavano i gentili non c'era alcuna relazione con loro come sappiamo nel libro degli atti è chiaro questo ma in questo caso i giudei agiscono di modo diverso intercedono per quest'uomo centurione soldato dell'impero romano un non giudeo un gentile e perché agiscono in questo modo egli merita letteralmente egli è degno egli è degno è degno che tu gli conceda questo perché ama la nostra nazione lui era gentile ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga intercedono per lui perché quest'uomo soldato di Roma non giudeo amava il popolo di Israele aveva contribuito finanziariamente probabilmente alla costruzione della sinagoga era una persona molto stimata degli anziani del popolo a motivo di questo gli anziani intercedono per lui dicendo che meritava che era degno dell'intervento di Gesù meritava che Gesù guarisse il suo schiavo questo è il modo in cui descrivono il centurione che totalmente diverso dal modo in cui il centurione vedremo descriverà se stesso lui è meritevole lui è degno mettono al centro lui quello che aveva fatto per il popolo una descrizione che è comunque totalmente distinta e diversa rispetto alla visione che il centurione aveva di se stesso e di questo ora infatti parliamo l'umiltà del centurione l'umiltà del centurione questo uomo manda questa autorità per chiedere a Gesù di guarire il suo schiavo e ora qui vediamo cosa manifesta quest'uomo un non giudeo un gentile versetto 6 Gesù si incamminò con loro ormai non si trovava più molto lontano dalla casa era vicino alla casa del centurione e cosa accade il centurione gli mandò degli amici dei suoi amici per dirgli questo signore non darti questo incomodo non preoccuparti e specifica perché perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto signore non darti questo incomodo non preoccuparti perché non sono degno che tu entri sotto il mio tetto e aggiunge versetto 7 la prima parte perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te questo è quello che dice il centurione il centurione si considerava indegno disse di se stesso l'opposto di quello che dissero i giudei gli anziani dei giudei lui non consideravano se stesso degno di andare da lui direttamente da lui o che Gesù entrasse a casa sua e qui non semplicemente a motivo di quella che era l'impurità cerimoniale di coloro giudei che entravano quando entravano nella casa di un gentile non è semplicemente questa la preoccupazione del centurione perché dice non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te quest'uomo non si considera degno davanti alla maestà e davanti alla santità di Gesù qui c'è una chiara testimonianza della sua umiltà della sua povertà in spirito questo è quello che manifesta la consapevolezza del proprio peccato e della santità di Gesù un reale frutto di ravvedimento qui mostra che ha una reale corretta biblica consapevolezza di chi lui è davanti a Gesù e la stessa cosa accade in Luca 5 in Luca 5 quando Gesù compie quel segno miracoloso questa grande pesca grande quantità di pesci a motivo di quello che Gesù disse versetto 8 Simon Pietro veduto ciò si gettò ai piedi di Gesù dicendo signore allontanati da me perché sono un peccatore allontanati questo è quello che disse Pietro davanti a quello che Gesù fece oppure in Luca capitolo 18 il pubblicano che prega in questo modo se ne stava a distanza a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo ma si batteva al petto dicendo oh Dio abbi pietà di me peccatore quale contrasto con quello che l'atteggiamento del fariseo stava in piedi e pregava così dentro di sé oh Dio ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini ladri ingiusti adulteri neppure come questo pubblicano io digiuno due volte alla settimana pago la decima su tutto quello che possiede questo centurione non fece così raccontando quello che aveva fatto per il popolo di Saerema non si considerava degno di andare a Gesù e parlargli direttamente o di farlo entrare a casa sua manifesta una grande umiltà questa povertà in spirito in Luca 6 versetto 20 il Seremonio sul monte Gesù disse questo proprio all'inizio versetto 20 beati voi che siete poveri perché il regno di Dio è vostro qui il riferimento è che cosa Matteo 5 versetto 3 beati poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli poveri in spirito questo è quello che manifestò il centurione questa povertà in spirito questa umiltà in contrasto con invece l'orgoglio dei giudei in Luca 5 in Luca 5 quando Levi chiamato da Gesù a seguirlo prepara questo banchetto invita molte persone e i frisei i loro scrivi morboravano e dicevano ai discepoli di Gesù perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori all'opposto dell'umiltà di spirito si consideravano giusti e giudicavano gli altri come dei peccatori ma loro erano giusti il centurione invece agisce in modo totalmente diverso grande umiltà ma non solo grande umiltà ora parliamo della sua fiducia la fiducia del centurione dal 7 seconda parte del versetto 7 fino al 10 la fiducia del centurione dopo aver detto perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te ma nel testo greco questo è un grande ma ma di una parola e il mio servo sarà guanito abbiamo letto questa frase riletto questa frase letto questa frase e non considerato il significato di questa frase ma di una parola dice a Gesù attraverso i suoi amici e il mio servo sarà guarito centurione mostra fiducia in Gesù e illustra questa sua profonda consapevolezza dell'autorità assoluta di Gesù sulla vita del schiavo e sulla morte dello schiavo dicendo questo versetto 8 perché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati e dico a uno vai e degli va a un altro vieni e degli viene e al mio servo fa questo e degli lo fa non sta dicendo che lui ha la stessa autorità di Gesù ma vuole illustrare in che modo Gesù poteva agire senza dover entrare a casa sua avendo un'autorità assoluta cosa che non aveva il centurione poteva semplicemente parlare e guarire il centurione ha piena fiducia nell'autorità di Gesù sulla vita del suo servo che stava per morire fiducia nella potenza della parola di Gesù fiducia nella sua autorità tra volte diciamo anch'io questa fiducia anch'io credo in Gesù davvero viviamo la nostra vita con questa fiducia nella potenza di Gesù nella potenza della sua parola di una parola e il mio servo sarà guarito questo è il modo in cui agisce il centurione e in che modo Gesù descrive questo suo atteggiamento osservate come e come reagisce udito questo Gesù restò meravigliato di lui sì Gesù dice la scrittura restò meravigliato di lui stupito e rivolgendosi alla folla che lo seguiva per curiosità come sempre si rivolge alla folla la stessa folla religiosa che crede che crede in Yahweh interessata Gesù rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede descrive le parole e le azioni del centurione come la testimonianza di una grande fede ed è Gesù che lo dice grande fede neppure in Israele ho trovato una così gran fede il popolo di Dio che aveva conoscenza di Dio grazie alle scritture all'antico testamento il popolo di Dio che aveva un grande un grandissimo privilegio qui sta giudicando il popolo indirettamente neppure in Israele voi che avete udito profeti parlare da parte mia che avete le scritture che conoscete le scritture neppure in Israele ho trovato una così gran fede e come vedremo fra un attimo neppure i discepoli in molte circostanze ebbero una così gran fede sappiamo che alcuni credettero certamente tra il popolo ma la maggior parte del popolo non manifestò fede in Gesù i giudei avevano fiducia nella propria giustizia il centurione invece ha fiducia in Gesù nella sua parola nella sua autorità versetto 10 quando gli inviati furono tornati a casa trovarono il servo lo schiavo guarito guarito in Matteo 8 versetto 13 il brano parallelo dice che in quella stessa ora fu guarito in quella stessa ora quando Gesù parlò la testimonianza della sua autorità e potenza divina Gesù che guarisce quest'uomo parlando questo è quello che dovrebbero fare i non credenti considerare chi è Gesù Dio incarnato ma andiamo per un attimo in Matteo 8 un brano parallelo perché Gesù aggiunse qualcos'altro in Matteo 8 diciamo dal versetto 10 Gesù dito questo quello che disse il centurione ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano io vi dico in verità che nessuno in Israele ho trovato una fede così grande e aggiunge ascoltate e io vi dico che molti verranno da oriente e da occidente e si metteranno a tavola con Abramo Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori là ci sarà pianto e stridor di denti molti verranno da oriente ad occidente e si metteranno a tavola con Abramo Isacco Giacobbe nel regno dei cieli ma i figli del regno e qui si riferisce a chi i giudei Israele erano figli di Abramo e si consideravano a motivo di ciò figli del regno meritevoli ma qui Gesù dice che i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori giudizio eterno là ci sarà pianto estridoro di denti questo modo in cui Gesù descrive il tormento eterno dei perduti pianto e stridor di denti tenebre per l'eternità il figli del regno questo è quello che Gesù disse davanti a quella folla che lo seguiva e alla luce di questa fede del centurione il popolo che aveva conoscenza il popolo che era stato distruito il popolo che aveva le scritture che è ostile nei confronti di Gesù che non ripone fiducia in Gesù che manifesta una falsa fede e Gesù dice qui c'è un uomo un non giudeo che alla luce di quello che conosceva attraverso il ministero di Gesù in Galilea in Capernaum giunse ad avere questa fede gran fede in Gesù un racconto che mette in luce l'essenza della fede di questo centurione non giudeo e questo in contrasto con la folla apparentemente devota a Dio ma che non aveva fiducia in Gesù Gesù continua a parlare e a rivolgersi alla folla in quel contesto di ipocrisia religiosa era importante descrivere in cosa consisteva la fede vera perché molti credono in Dio in Gesù anche nel nostro contesto è importante chiarire in cosa consiste la fede la vera fede biblica perché può essere confusa con una fede religiosa una falsa fede questo è quello che fa in questo contesto Gesù e in questo brame abbiamo due elementi e di questo che vorrei parlare in conclusione due elementi importanti di questa grande e reale fede due elementi importanti di questa grande e reale fede è fondamentale per noi considerare questo per poter comprendere in cosa consiste la fede salvivica questo è il primo elemento oltre all'amore che questo uomo manifestò nei confronti di questo schiavo già una testimonianza chiara dell'opera di Dio in lui il primo elemento è l'umiltà l'umiltà la povertà è in spirito non è una caratteristica umana che troviamo nelle persone riconoscere la propria condizione spirituale il proprio peccato vederlo considerarsi indenni di fronte a Gesù completamente nudi metaforicamente parlando di fronte a lui nulla di meritevole lui non si considera degno e non va da Gesù personalmente non lo fa entrare a casa sua agisce in questo modo le sue azioni manifestano quello che c'era nel suo cuore questa sua povertà in spirito si manifesta con queste sue azioni non entrare a casa mia non sono degno che tu entri sotto il mio tetto e non sono venuto da te direttamente di fronte alla maestà alla santità di Gesù quest'uomo si considera indegno quest'uomo ha una corretta visione di se stesso quando c'è una fede salvifica c'è una corretta visione di se stessi della propria condizione del proprio peccato e questa corretta visione l'uomotiva d'agire in questo modo lui è povero inspito povero come Gesù disse beati voi che siete poveri non c'è questa povertà spirituale nel non credente colui che non è rigenerato perché si attacca sempre a qualcosa che fa di buono ma io non sono come il ladro io seguo delle cose io vengo in chiesa ho fatto delle opere buone nella mia vita sono così messo male c'è sempre questa indole perché il cuore dell'uomo è ingannevole è schiavo del peccato ma il figlio di Dio ha questa povertà inspito pienamente costantemente consapevole di chi lui è davanti Gesù e questo si manifesta nel rapporto che ha con Gesù nel timore che ha di Gesù nel timore che ha di Dio sapete oggi nel contesto evangelico non c'è timore di Dio si cerca un rapporto con Dio quasi amichevole Dio è amore quindi posso trattarlo come un amicone senza avere quella riverenza quel profondo rispetto e qui vediamo un soldato di Roma un non giudeo che invece non va da Gesù direttamente quanti credenti professanti sarebbero corsi con un spito non di umiltà ma di presunzione non è errato ovviamente in dare a Gesù ma con quale spito lui non si considerava degno qui quest'uomo manifesta quello che c'è nel suo cuore lui era tra i benedetti povero e poi un secondo elemento di questa fede il secondo elemento la fiducia in Gesù fiducia in Gesù cosa significa avere fede in Gesù fratelli e sorelle cosa significa conosciamo questo termine forse uno dei più usati oltre al termine amore ma cosa significa che cos'è la fede credere credere in Gesù nella sua morte risurrezione e basta no è importante ma non è questa la fede credere in alcuni fatti riconoscendo la verità di alcuni fatti non è questa la fede è importante questo certo non è questa la fede quando parliamo di fede ci riferiamo a questa fiducia fiducia in Gesù in questo caso nella sua potenza e sua autorità avere fede significa agire parlare manifestando totale fiducia in Gesù non semplicemente credere in alcune cose che riguardano Gesù ma significa vivere agire pensare parlare affidandosi completamente senza riserve a Gesù al 100% non basta avere fiducia in Gesù al 99% perché quell'1% di fiducia in noi stessi azzera completamente quella ipotetica fiducia in Gesù fratelli e sorelle aggrappate noi stessi noi capaci più di Cristo di governare la nostra vita questo uomo disse di una parola di una parola riguardo a qualcuno che stava per morire di una parola significa affidarsi a Gesù completamente ma non la domenica mattina mentre cantiamo dei canti della nostra vita quotidiana quando viviamo quando pensiamo quando relazioniamo con gli altri la fede in Gesù che risponde quindi a questa visione biblica di noi stessi questa umiltà e questa visione biblica di Gesù e quindi fiducia in lui vorrei leggere un brano in cui vediamo da poca fede dei discepoli di Gesù Luca 8 versetto 22 fino al 25 per anche qui comprendere in cosa consiste la fede in Gesù Luca 8 22 lo vedremo in futuro un giorno egli salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro passiamo all'altra riva del lago e presero del largo mentre navigavano egli si addormentò e si abbatté sul lago un turbine di vento tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo i discepoli avvicinatisi lo svegliarono dicendo maestro maestro noi periamo ma egli destatosi sgridò l'evento e i flutti che si calmarono e si fece bonaccia poi disse loro dov'è la vostra fede e ascoltate quello che dissero loro ma essi impauriti e meravigliati dicevano l'uno all'altro chi è mai costui che comanda anche i venti all'acqua e gli ubbidiscono questa mancanza di fiducia era dovuta alla mancanza di conoscenza che avevano di Gesù non avevano colto ancora chi è Gesù la nostra mancanza di fiducia in Gesù è dovuta al fatto che non conosciamo Gesù come dovremmo teoricamente siamo dei maestri dei teologi ma quella conoscenza non si trasforma in vita non diventa la nostra conoscenza di Cristo e di conseguenza questa fiducia in Lui che conosciamo il centurione disse di una parola conosceva chi è Gesù le sue opere potenti la fede salvifica la vera fede è strettamente legata alla conoscenza che abbiamo di Gesù che abbiamo di Dio mediante le scritture anche una corretta visione che abbiamo di noi stessi questa povertà in spirito la fede è la messa in pratica della conoscenza che abbiamo di Dio non è io credo io sono un credente io faccio questo quest'altro sono un evangelico credo nella Bibbia credo in Gesù è morto sulla croce tante frasi tante cose importanti e giuste ma che non manifestano la fede salvifica di per sé o una reale fiducia per chi è in Cristo la fiducia si manifesta nella vita quotidiana quando la conoscenza che abbiamo di Dio cambia il modo in cui noi affrontiamo le circostanze lì che mostriamo di avere fiducia camminare per fede significa avere un nuovo stile di vita non continuare a ragionare da carnali non continuare a fare quei vecchi ragionamenti e ma se non faccio questo dov'è Dio lo faccio io Dio è troppo lento fratelli non lo diciamo ma viviamo così la fiducia in Gesù risponde a questa totale volontà di mettere da parte noi stessi che di seguire Lui la Sua parola le Sue promesse le Sue verità che abbiamo visto la scorsa domenica e questa fede sapete in Gesù ci condurrà a sperimentare una completa gioia solo quando camminiamo con questa fede completa gioia non solo una reale pace quella pace di Dio soprannaturale quando c'è fiducia in Lui quando andiamo alla scrittura per crescere nella conoscenza di Gesù e vivere quella conoscenza non semplicemente crederci quando la Bibbia è aperta e poi la chiudiamo non c'è più quella verità viviamo in questo modo fratelli se siamo onesti basta chiudere la Bibbia affinché non ci sia più fede anziché prendere la verità la conoscenza viverla meditare su questo rammentare chi è Gesù e di conseguenza avere totale fiducia a Lui completa gioia una reale pace certezze nella nostra vita in chi cerchiamo certezze dove le cerchiamo le certezze nelle nostre azioni fratelli non basta dire io sono fatto così e tanti anni che vivono così il mio carattere no fratelli il cristiano vive per fede Gesù di una parola e sarà guarito mi affido a te e opererai e sono in grado di vivere in mezzo a qualsiasi circostanza e ma se poi accade questo eccoli con l'un per cento di fede in noi stessi questa fede ci conduce alla saggezza sapete e quando c'è fede in Dio che c'è saggezza le giuste priorità giuste decisioni occhi aperti nel capire come agire con saggezza quando c'è questa fede fratelli c'è una reale devozione non quella degli iscriviti dei farisei una reale devozione se non c'è fiducia in Gesù come posso essere devoto a Gesù se metto al centro me stesso anche per quell'un per cento la fede in Gesù ci porta ad una vera devozione non solo quando c'è questa fede c'è il servizio chi ha reale fede in Gesù e cresce in questa fede e lui vuole servire Cristo perché quella fede è reale parte della sua vita non del suo intelletto della sua vita lui vive per servire perché perché ha fede in Dio vive per fede gioisce nel servire Dio attraverso il servizio verso i fratelli e le sorelle e quando c'è una fede genuina reale e crescita nella fede ci sarà una reale testimonianza di Cristo è lì che saremo fedeli e testimoni di Cristo se pensate a quello che fece quest'uomo disse semplicemente di una parola e il mio servo sarà guarito e molti di noi direbbero certo anch'io avrei fatto questo anch'io credo nella sua potenza divina e quando c'è l'ansietà e quando c'è la preoccupazione costante e quando viviamo schiavi di un vizio e quando continuiamo a vivere peccando in alcune circostanze perseverando dove la fede questa è la fede del centurione di una parola e il mio schiavo sarà guarito la fede si manifesta con questa umiltà fratelli cari questa povertà in spirito e con questa totale fiducia in Gesù tutti siamo chiamati a crescere come gli apostoli di allora chiamati a crescere maturare ma questo è possibile fratelli cari quando cresciamo nella conoscenza che abbiamo di Cristo e di Dio attraverso la parola ecco perché essere qui questa mattina per poter conoscere Cristo per riconoscere Dio di più conosce la sua volontà e come risultato riporre la nostra fede in Lui consapevoli delle nostre mancanze della nostra povertà e anziché rifugiarci noi stessi cosa che facciamo rifugiarci unicamente in Lui sì solamente in Lui ed è lì come ho detto che ci sarà gioia pace saggezza devozione una vera testimonianza evangelistica e certezze nella nostra vita fratelli possa questo brano quello che Gesù disse di quest'uomo ancoraggiarci ad avere questa stessa fede la messa in pratica della conoscenza che abbiamo di Cristo attraverso questo Vangelo della nostra vita in modo reale oggettivo della nostra vita quotidiana e questo ci permetterà di glorificare il nome di Cristo fratelli cari come glorificare il nome di Cristo se non viviamo per fede in che modo Lui è glorificato se noi ci affidiamo noi stessi ma se viviamo per fede cresciamo in questo cammino di fede attraverso le scritture e l'insegnamento a quel punto possiamo davvero glorificare Dio non solo attraverso dei canti parole che pronunciamo ma attraverso una vita costante una vita reale vissuta con questa umiltà e con questa totale fiducia in Cristo e con questa umiltà l'insegnamento